La Guardia di Finanza ha sequestrato 700 prodotti per un valore di circa 50.000 euro in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi a Caltanissetta. Articoli potenzialmente pericolosi per la salute. Lampadine LED Color, pannelli LED vari formati, scaldini elettrici, asciugacapelli, ventilatori e altro, la cui etichettatura risulta totalmente difforme da quanto previsto dalle norme sulla sicurezza degli stessi prodotti. In particolare la merce recava indicazioni e istruzioni non in italiano in violazione delle norme del codice sul consumo. I prodotti verranno messi a disposizione della Camera di Commercio di Caltanissetta che combinerà la sanzione al titolare dell'attività. Si tratta di sanzioni amministrative che possono arrivare ad oltre 70.000 euro.